Costruiamo sempre, però non riusciamo mai a finalizzare. Non so perché, ma lo so questo motivo. Ci manca proprio il gol a noi, perché a livello di gioco giochiamo, creiamo tanto. Poi all'ultimo abbiamo fatto un'azione bellissima, palla dietro, un'unziata, tirata. Il portiere ha fatto una bella varata, però purtroppo non lo so. Puniti alla primavera disattenzione, se possiamo definirla così, nel primo tempo. Sì, alla primavera disattenzione. Poi lui ha fatto pure un gran gol, però, la verità. Peppe ha fatto un gran gol. Una gara dà il sapore speciale. Fino a qualche settimana fa, fino a qualche mese fa, meglio dire, giocavi con la maglia del Campania? Ah, vabbè, questi sono stati pochi mesi, però sono stati tre o quattro mesi belli al Campania. E invece l'approccio con Santa Maria, con la squadra, con questa nuova realtà? Benissimo, la verità. Fino adesso tutto benissimo. Te l'ho detto già prima. È proprio il risultato che manca a noi. Squadra che gioca bene, che però non riesce a finalizzare la mole d'azione che produce? Eh, o forse siamo scarsi, o siamo sfortunati, non lo so. Questo è. Però, a livello di impegno ce ne mettiamo tutti. Bisogna non abbassare la guardia, anche perché adesso si entra nella fase clou della stagione e ci sono i play-off da conquistare. Eh, l'obiettivo è arrivare ai secondi, perché, la verità, siamo a sei punti. Non so se l'ancro ha già vinto. Quando i partiti vengono alla fine, 11, 12, non mi ricordo. Eh, dobbiamo fare il più appunti possibile fino alla fine.